pizza altero la pizza quadretti di gran qualità al giusto prezzo da oltre mezzo secolo altero tradizionale punto di riferimento per i buon gustai sforna pizze deliziose e fragranti realizzate con ingredienti attentamente selezionati le pizze di altero nascono da lavorazioni artigianali con l'impiego di ingredienti genuini e frutto di continua ricerca la più amata di tutte è la margherita ma ci sono tantissimi gusti e novità altero vi aspetta tutti i giorni con orario continuato nel nuovissimo punto vendita in via caprari e 3a in centro a bologna